18 candidati per 5 comuni sono i pretendenti alla poltrona di primo cittadino che scendono in campo per la tornata elettorale 2016. I capoluoghi dove i cittadini sono chiamati alle urne per il rinnovo del governo locale sono Anghiari, Civitella e Valdichiana, Montevarchi, Ortignano, Raggiolo e Sansepolcro. Tutti tra meno di un mese sapranno chi sarà a guidare il territorio per i prossimi 5 anni, 3 invece sono i sindaci uscenti che si ripresenteranno per il secondo mandato. Si torna a votare il prossimo 5 giugno. Nei comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali. Ciascun candidato sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di consigliere. Sulla scheda è già stampato il nome del sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia. Il voto per il sindaco e quello per il consiglio sono uniti. Votare per un candidato sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia. Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi la seconda domenica successiva. Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio. Alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i due terzi dei seggi disponibili. Nei comuni con più di 15.000 abitanti e nel caso di quelli che sono chiamati alle urne in provincia di Arezzo, vale a dire Montevarchi e Sansepolcro, il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi. Tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la preferenza alla lista contrassegnata al candidato sindaco, tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la doppia preferenza di genere, tracciando un segno solo sul nome del sindaco. Nei comuni con più di 15.000 abitanti è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più 1. Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. Grazie a tutti.